Come è la nostra azienda? All'interno della stessa isola, basta pensare al vulcano Etna dove c'è la neve e contemporaneamente sul mare la gente va al mare allo stesso giorno, quindi è una regione molto diversa. Noi ci troviamo nella parte sud sulla costa davanti al mare all'interno della riserva naturale Lago Biviere di Gela, un clima particolare molto umido grazie alle notti fredde di umidità del lago e della vicinanza del mare. Per questo motivo i nostri vini hanno una fragranza particolare e dei profumi molto eleganti. Sì, è il periodo quando ci divertiamo di più e durante la vendemmia. In Sicilia la vendemmia è intesa come una grande festa di famiglia, quindi si sta tutti nei campi, si raccoglie e poi a fine vendemmia si fanno delle grandi feste bevendo vino. Grazie a tutti.